Un ransomware è un software malevolo che è in grado di prendere il controllo del nostro computer e di bloccarne il funzionamento, cifrandone i dati. Soltanto dopo aver pagato un riscatto a colui che ha inoculato il virus nel nostro computer, possiamo tornare in possesso dei dati che erano stati presi in ostaggio di fatto. In questo caso parliamo di un ransomware particolarmente dannoso, non sarebbe il Petia che noi conosciamo ma sarebbe una variante di Petia perché noi già sappiamo oggi come bloccare Petia ma non sappiamo come bloccare la variante che oggi ha portato al blocco di trasporti, ospedali, centrali elettriche, addirittura aeroporti e molte aziende manifatturiere. Quindi Petia era già conosciuta? Petia era già conosciuto e siamo in grado di contrastarne gli effetti. Questo nuovo Petia, chiamiamolo così, viene chiamato PetrWop. È una variante che non è ancora conosciuta e che gli esperti stanno studiando. Secondo alcuni analisti di Kaspersky, addirittura si tratta di una variante mai vista e conosciuta di questo ransomware molto pericoloso e quindi ci vorrà del tempo prima di adottare le adeguate contromisure. Certo qualcosa si può fare anche subito perché non è stato colpito. Ecco, di questo parleremo fra un attimo. Dicevamo ha colpito tantissime società, perfino la centrale nucleare di Chernobyl. Che tipo di disservizi porta un ransomware di questo tipo? Allora, un ransomware bloccando i sistemi che gestiscono le nostre infrastrutture critiche, quindi le vie di trasporto, oleodotti, petrodotti, aeroporti, dighe, ospedali, cioè colpendo le infrastrutture critiche della società, di fatto bloccano le attività quotidiane e mettono in pericolo la vita delle persone. In questo caso il ransomware però si è concentrato sull'attacco a delle aziende manifatturiere e di logistica. Nel caso di Chernobyl non è riuscita a intaccare i sistemi di contenimento delle radiazioni all'interno del sarcofago di cemento armato, ma è riuscita a bloccare i sistemi di rilevamento della radioattività esterna al sarcofago dell'ex centrale nucleare di Chernobyl. Quindi per sapere quali sono i danni dobbiamo probabilmente aspettare domani mattina, anche se sappiamo già da adesso che a Kiev non è stato possibile comprare i biglietti per andare sulla metropolitana. Ci sono state accuse reciproche fra Russia e Ucraina. Chi può esserci dietro Petia? È possibile che ci siano i russi, però troppo spesso i russi sono invocati come un capro espiatorio. In realtà non sappiamo se dietro questo ennesimo attacco ci sia un gruppo di cibercriminali che semplicemente vogliono guadagnare in maniera veloce da piccoli riscatti monetari o semplicemente se stanno attaccando i computer con un ransomware per renderli vulnerabili ad attacchi successivi. Questa è una tecnica tipicamente usata da soggetti che vengono dal mondo dell'intelligence. Quindi noi non sappiamo se dietro questo attacco ci sia un gruppo di cibercriminali oppure uno Stato canaglia che ha assoldato personale molto esperto proveniente dal mondo militare dell'intelligence per provare quali sono le capacità di difesa di aziende, entità commerciali, governi e così via. Quindi potrebbe essere anche una battaglia fra grandi potenze del mondo? Potrebbe essere un effetto collaterale della guerra cibernetica in corso nel ciberspazio ormai da molto tempo. Noi qui a Red News 24 l'avevamo già detto quando abbiamo parlato di WannaCry. WannaCry siamo riusciti a stopparlo grazie a un interruttore che era inserito all'interno del codice. Questa volta non abbiamo ancora trovato l'interruttore del nuovo attacco. E allora che cosa possono fare i cittadini per proteggersi? Innanzitutto questo ransomware attacca i sistemi Windows come faceva WannaCry. Quindi la prima cosa è che se sei in possesso di un computer Windows devi aggiornarlo subito. La Microsoft, che è la società che produce il software Windows, ha già rilasciato gli aggiornamenti anche gratuiti per fare in modo che i propri computer si diventino immuni ad attacchi di questo tipo. La seconda cosa da fare è lanciare un buon antivirus per vedere se è in grado di rilevare la minaccia in corso o altre minacce in corso che il precedente attacco potrebbe aver depositato, rilasciato, nascosta dentro il proprio computer. Ovviamente questo è un lavoro importante che devono fare soprattutto gli esperti di sicurezza informatica delle grandi aziende, degli enti governativi ma soprattutto di ospedali e infrastrutture critiche ripeto come gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, i bacini idrici e così via.